Il cristianesimo Cari amici, abbiamo detto che l'oggetto della nostra fede è Gesù. Anzi, abbiamo detto che il cristianesimo è Gesù Cristo. Possiamo fare eco alle parole bellissime di Ignazio d'Antiochia che diceva parlatemi solo di Gesù Cristo, mi interessa soltanto Lui, perché Lui è tutto. Quindi essere cristiani non vuol dire aderire ad un'idea, ad una dottrina, ma a una persona, riconoscendola come figlio di Dio, Gesù Cristo. E la fede esige una esperienza diretta o indiretta di Lui. Questo dobbiamo metterlo in chiaro. La fede esige una esperienza di Lui, diretta o indiretta. Però un'esperienza ci vuole. È stato posto un problema molto interessante, le ragioni della conversione del buon ladrone. Ma perché quest'uomo sulla croce immediatamente dà un'adesione a Cristo senza averlo conosciuto prima? È possibile non l'abbia conosciuto prima. Alcuni ritengono che avesse avuto una conoscenza delle scritture, magari frequentando la sinagoga, oppure per averlo sentito parlare, scusate, in qualche maniera. Allora, alcuni ritengono che avesse potuto vedere Gesù in altre occasioni e circostanze. Non mancano supposizioni. Sant'Agostino, invece, ritiene che sia stata una sola la ragione, lo sguardo di Cristo. Cristo lo ha guardato e il ladrone si è convertito, ha aderito a Lui. Un po' quello che avvenne a Paolo sulla via di Damasco? Cristo lo ha folgorato e ha seguito Lui. Ovviamente questo incontro potrà essere diretto con Cristo o anche indiretto, attraverso delle persone che lo hanno incontrato, Cristo. Una cosa dobbiamo avere ben chiara, soprattutto in questo periodo. Noi stiamo vivendo un momento in cui il valore essenziale che domina l'universo religioso non è la verità, ma è l'autenticità. Oggi è difficile parlare di ortodossia, di eterodossia. Il trionfante soggettivismo dona valore alle tematiche religiose in rapporto all'esperienza del soggetto. Basta essere attenti al fenomeno religioso per accorgersi subito che il valore di una verità dipende tutta dalla soddisfazione che procura al suo utilizzatore. Non possiede nessun altro valore se non quello dell'uso. Ma quello che impressiona e gioca nella dimensione dell'evangelizzazione oggi non vale tanto immediatamente la verità quanto l'autenticità. Tanto più bravo si chiaro. Un cristiano non convinto che annuncia la verità tutta intera è molto meno efficace di un buddista che è profondamente convinto della sua dottrina e la vive fino in fondo. Praticamente si aderisce più al buddista convinto che al cristiano che annuncia la verità. Perché oggi è il tempo in cui si chiede più all'autenticità che alla verità. Attenzione, questo che cosa è? Uno stimolo per noi. Che il cristianesimo dobbiamo viverlo, che l'esperienza di Cristo deve venire, che l'annuncio di Cristo deve venire da una esperienza. Non basta soltanto conoscere Cristo. Non basta soltanto conoscere il catechismo, la dottrina. Bisogna aver fatto l'esperienza di Cristo. Guardate che noi siamo tutti cartesiani. Cioè a Dio ci interessa soltanto il cervello. Noi diciamo delle cose, diamo delle spiegazioni, diamo delle dimostrazioni e siamo convinti e la persona è convinta e si è convertito. Figuriamoci. Bisogna dare delle spiegazioni, annunciare la verità, di cui non si può fare a meno, ma testimoniare che questa verità è autentica, ma questa verità è vera, nella mia vita, è vita perviva per me. Le esperienze della fede, credete, sono davvero fondamentali, sapete, per credere. Siccome la fede è fiducia nella persona del Dio vivente, questa fiducia deve fondarsi su qualche esperienza. e quando finisce l'esperienza, quando finisce l'esperienza comincia la fede. Mi appello a una dottrina, la dottrina di un grande spirituale, Macario il Grande. Macario, nelle sue considerazioni sull'esperienza religiosa, sulla vita contemplativa, dice che quando la vicinanza di Dio, la coscienza di Dio ci avvolgono interialmente nel più profondo di noi stessi, noi non possiamo né pensare, né sentire, né preoccuparci del nostro destino, dei nostri movimenti, della nostra volontà. Diventiamo una cosa sola con questa esperienza. Siamo tutti contemplazione. Non possiamo né analizzare, né decifrare in che cosa consiste questa esperienza. è impossibile osservare o riconoscere ciò che ci succede intorno. Questo uno si immagina, ma sono cose strane. No, sono ormai nel mondo. L'avete mai visto i due ragazzi innamorati che si scambiano sei gesti e gesti d'amore in mezzo alla strada piena così di gente? Bene. Allora sono lì e non si accorge nessuno di che ci succede intorno. Sono tutti completamente rapiti e presi dall'amore e dalla manifestazione dell'amore del suo partner. Teofano il recluso, questa la chiama la beata schiavitù dell'anima. Quando l'uomo perde la sensibilità, fa interamente corpo con questa esperienza e non vede che Dio è la grazia di Dio. E guardate che queste esperienze di Dio non avvengono mica soltanto nei monasteri, sapete. Ma sono trasformanti anche nelle mani... Avvengono anche nelle maniere più semplici, nelle maniere più normali. Probabilmente è capitata anche a voi. Ultimamente un giovane, piuttosto indifferente ma in ricerca, è tornato da Međugorje, completamente trasformato. Ma ha raccontato che solo di notte alle due è salito sulla montagna delle apparizioni. Sarò un esatto perché personalmente non sono mai stato a Međugorje. Ha aiutato dalla sua fila e nella solitudine della notte si è sentito toccato da Dio. Boh, era Dio, era suggestione. So soltanto che è cambiato. Ha cambiato vita. Per me è la prova sufficiente per poter dire che Dio ha agito. Che Dio ha agito. Ricordo di un sacerdote che aveva deciso di lasciare il ministero, lasciare il sacerdotio, e aveva già tutto ormai deciso con me, si trovava in piazza San Pietro la mattina dei funerali di Papa Voitigua. E mi raccontava che quando si sono aperte le tende delle porte centrali di San Pietro e è apparsa la salma del Papa, si è sentito colpito profondamente e ha deciso di rivedere la sua posizione, è tornato sulla sua decisione. Suggestione, impressione, i frutti parlano di una presenza. Credo del Signore in azione, come Redentore e come Salvatore. Ma quanti sono queste esperienze? Il grande Macario dice che se questi doni di Dio li concede ai grandi contemplativi, li dà ugualmente a coloro che non hanno raggiunto quel grado di profondità. o una tale elevazione spirituale, per questo cessa l'esperienza e l'uomo ritorna a se stesso. Facciamo un esempio, che non è certo di Macario il grande, è mio. Immaginiamoci di essere una barchetta in riva al mare, una barchetta abbandonata lì sulla spiaggia del mare. Quando arriva l'alta marea, la barchetta galleggia. Quando il mare si ritira, la barchetta si riadagia sulla sabbia. Ecco, l'alta marea sono le esperienze spirituali. Quando va via al mare, l'acqua si ritira, ritorna sulla sabbia. È l'esperienza della fede. La contemplazione fa vibrare l'anima e dà la certezza che rimane anche dopo che è finita l'esperienza. E guardate che di questo tipo di esperienza è piena tutta la Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento. E questo è coinvolgente che nessuno, tanto da poter dire, che nessuno può rinunciare al mondo direbbe un grande monaco se non ha visto nel volto di un altro il valore della vita eterna. Ve lo ricordate Mosè quando scendeva dal monte dopo aver incontrato Dio? Il suo volto rifletteva la luce della gloria. Era stato immerso nella contemplazione di Dio con una tale intensità che i figli di Israele non potevano sopportare quella luce accecante. In una misura minore può avvenire anche a noi incontrando un uomo in cui questa luce si diffonde e ci dona di captare qualcosa. Io ne ho incontrati molti di persone di grande comunione con Dio che gli si vedeva. Ricordate l'esperienza descritta da Simeone il nuovo teologo dopo aver ricevuto la comunione. Ritornato nella sua cella dice ora mi trovo nella mia umile cella seduto su un povero letto guardo le mie mani e guardo il mio corpo con timore perché dopo aver partecipato ai santi doni la divinità stessa di Cristo entra nella materia del mio corpo queste deboli mani di un vecchio sono le mani di Dio e questo corpo è il corpo di Cristo. Questi stati interiori sono accessibili e non rari quando qualcuno riceve l'Eucarestia con raccoglimento nella purezza e nella totale apertura della vita. Pensate al dialogo di Motolvilov e alla visione luminosa che ebbe Serafino di Saro vi faccio due esempi di che cosa può essere questa esperienza. Il primo è tratto dalla vita che è l'amore nelle relazioni umane. Un gruppo di giovani due siedono un accanto all'altro lavorano insieme viaggiano insieme senza prestare grande attenzione all'altro. Un giorno uno dei due o tutte e due insieme si guardano si vedono sotto una luce diversa semplicemente si amano e questo fatto ricade su tutte le altre cose. Un uomo che prima non esisteva che non era che una unità tra gli altri uomini della folla si stacca e diviene un essere unico possiede un enorme significato di vita è scattato l'amore ha fatto l'esperienza di un uomo chi gliel'ha fatta fare l'amore. Un altro esempio l'avete visto nelle grandi cattedrali le vetrate io ultimamente ho visto mi sono stato invitato a vedere le vetrate una vetrata del duomo di Firenze su disegno del Ghiberti dal momento che era stata scesa giù per il restauro si poteva vedere da vicino bene queste vetrate messe su in alto durante la notte non sono che un groviglio di pezzetti di vetro legati da del piombo e basta durante il giorno quando la luce le penetra emergono tutti i colori e vengono fuori le più belle immagini le vetrate di Chartres le vetrate del duomo di Milano le vetrate del duomo di Firenze bene questa che cos'è è la fede questa è l'esperienza che colpisce una verità di fede abbiamo parlato della fede con cui si crede e le realtà in cui si crede bene se ci sono le realtà in cui si crede il catechismo della Chiesa Cattolica ma non c'è la fede con cui si crede queste verità sono come delle vetrate al buio è soltanto la fede che illumina e che ci fa fare questa esperienza Gesù aveva una capacità particolare nel suscitare la fede e lo fa in maniera tutta particolare certamente in maniera divina a Pietro dopo la resurrezione non gli dice non ti vergogni pentiti chiedimi perdono voglio ancora essere mio discepolo deciditi deciditi no Gesù gli dice mi ami tu mi ami più di tutti gli altri è il problema già posto nel Vangelo a cui è perdonato di più ha amato di più tutto ciò che conta in quel momento è l'incontro col Dio vivente tutto il resto appartiene al passato sì io ti amo e come suscita la fede nell'adultera Gesù non pone i problemi della legge che la condanna alla rapidazione ma dopo aver liquidato gli accusatori in quanto anche loro non erano degni della legge si rivolge a lei e gli dice dove sono i tuoi accusatori neppure io ti condanno va e non peccare più Gesù si rivolge all'essere nascosto di ciascuno di noi e vede che gli uomini non vedono perché gli uomini giudicano dai comportamenti dalle parole non dalla profondità del cuore per poter credere è necessario vedere è necessario sentire è necessario sperimentare e qui vi dicevo parlandovi della presenza di Cristo nell'incontro precedente che Gesù è presente in immagine in potenza in persona ma di questa presenza vi ha a fare l'esperienza l'esperienza altrimenti la vita non cambia è come se non fosse presente se non se ne fa l'esperienza bene con un certo pudore vi spiego tutto questo dicendovi cosa mi è capitato con un certo pudore perché vi accorgerete ci vuole un po' di coraggio quando ero direttore spirituale del seminario romano maggiore un giorno si presentò ormai si perde la notte di tempi un giorno si presentò da madre una si presentò una sorina piccina così a farmi una proposta molto strana lei sapeva che bazzicavano intorno al seminario tanti giovani che al seminario c'erano dei giovani e lei con coraggio venne e mi propose di mandare dei giovani la notte alla stazione Termini a raccogliere i barboni a portare da bere da mangiare ai barboni a portare delle coperte ai barboni e magari portarli in luoghi al coperto io me la guardai e insomma trovai la scappatoia subito io ero il direttore spirituale il responsabile che fosse fare queste cose era il rettore dico guardi io non ho autorità si rivolga al rettore avete capito questa donna chi era? era madre Teresa di Calcutta dopo tanti anni dopo 40 anni io da ausiliare di Roma la sera venete un maglione andavo il venerdì sera insieme ai giovani a fare quello che lei mi chiedeva che avrei dovuto far fare ai miei seminaristi ma scusate madre Teresa di Calcutta sapeva che Gesù si riconosce nei poveri certo io lo sapevo che Gesù si riconosce nei poveri come no? direi scientificamente forse lo sapevo più di lei lei era una suora ma io addirittura avevo studiato spiritualità alla Gregoriana mica storie ero direttore spirituale del seminario romano ma allora perché questa qui nessuno la teneva ferma e voleva andare a correre a aiutare Cristo nei barboni e io rimanei indifferente per un motivo molto semplice tutte e due lo sapevamo ma lei se ne era accorta e io no tutto qui lei se ne era accorta e io no ecco qual è l'essenza della fede a che cosa deve condurci la fede la fede ci deve condurre alla esperienza ed è guardate che se non la facciamo direttamente questa esperienza di accorgerci che Gesù è si riconosce nei poveri però possiamo seguire qualcuno che ha fatto questa esperienza infatti con tutti i giovani anch'io sono andato poi a fare quello che lei mi chiedeva sulla sua esperienza lo stesso discorso vale benissimo anche per quanto riguarda l'Eucarestia in che maniera io faccio l'esperienza dell'Eucarestia attraverso l'adorazione che arrivo a percepire che Gesù è presente realmente nel pane e nel vino consacrato e lo faccio in maniera incipiente come lo può fa chiunque dopo un periodo di adorazione di sperimentare che lì non è davanti a una cosa ma è davanti a una persona e questa persona con cui io puoi parlare questa persona può farmi compagnia questa persona che può aiutarmi che può sostenermi questa è l'esperienza che cambia la vita e guardate che il cristianesimo la dinamica del cristianesimo è tutto qui sapete credere in Gesù Cristo e sperimentarne la sua presenza quando si dice che il cristiano è un cercatore di Dio un cercatore di Cristo l'hanno già trovato e già sì ma deve fare l'esperienza perché è l'esperienza che gli cambia la vita e allora che cosa significa questo significa questo cari amici che ciascuno di noi deve desiderare sempre più questa esperienza di Cristo e in questo la Chiesa è maestra e nella Chiesa ci sono dei maestri specializzati che sono gli uomini e le persone spirituali ma ci sono delle persone qualificate a questo e per questo che sono i sacerdoti che devono essere maestri di questa esperienza ciascuno di voi ha il diritto di chiedere a un prete insegnami a incontrare Gesù insegnami a fare l'esperienza di Gesù insegnami a fare l'esperienza della fede di questo voi ne avete diritto dire ai vostri preti vogliamo vedere Gesù forse gli farete arrossire ma potrebbe essere anche l'inizio della loro conversione e della loro ricerca grazie a tutti